non molto tempo fa è apparsa una lista con i motivi per i quali un uomo italiano preferisce una fidanzata dell'est mi sono sentita offesa ed arrabbiata e sono qui mie care donne a ricordarvi il nostro decalogo della casalinga perfetta e soprattutto ricordarvi alcuni punti da seguire cosa che naturalmente ci farà tornare in cima alla classifica delle fidanzate preferite punto numero uno quando il vostro tesoro torna a casa e aprendo la porta sentirete amore sono a casa quello è il momento di scrollarvi di dosso tutta la tristezza il peso della vostra giornata e dedicarvi a lui iniziando il lavoro più bello che ci sia al mondo quello della casalinga perfetta assicuratevi di essere sexy con adeguata lingerie e soprattutto molto carine per lui punto numero due mettete la sua musica preferita in sottofondo e mentre gli portate il suo aperitivo preferito entrate nella stanza fluttuando sopra le vostre ciabattine con il pelo rosa chiedetegli come è andata la giornata annuite e sorridete e soprattutto fategli un massaggio al collo e o ai piedi ricordatevi però la perfetta casalinga riesce a massaggiare collo e piedi contemporaneamente punto numero 4 dopo circa 15 minuti sentirete il timer della cucina perché la cena è pronta e chi ha preparato la cena ma voi stupidine e ricordatevi durante la cena non parlate non esprimete pensieri o d'opinioni lasciate pensare gli uomini punto numero 5 non lamentatevi se beve troppo se vi picchia se torna tardi la notte o se magari al collo della camicia sporco di rossetto in fondo voi come casalinghe perfette sapete come togliere quella macchia e poi cosa dovete fare alla fine della giornata rassettate tutto in cucina mettete a letto i bambini preparate i vestiti per tutti e naturalmente tutto ciò annullando voi stesse senza pensare a voi avete fatto tutto congratulazioni domani siete pronte per ricominciare naturalmente questo era tutto un gioco e non credo che né alle ragazze dell'est né a voi piaccia essere inserite in una lista ciao